Perché dobbiamo buttare? Siamo nati nel paese più bello del mondo e non possiamo godercelo, dobbiamo venirci in vacanza, vivere all'estero Quando invece dovremmo aprire, quanto ci farebbe bene abbassare le tasse in Italia? Ditemi voi che cosa ne pensate, qui l'unica cosa bella è che siamo in... sono stati... Ora oggi non proprio, oggi 16 gradi, però ieri ce ne erano 23, siamo in piscina, è dicembre Penso che l'inverno non esista, a Perugia fa freddissimo, in Puglia anche, dai, arriva un po' di freddo Qui il clima è bello, però farà un po' di freddo a gennaio e febbraio ormai e poi si sta da dio Ma non possiamo goderci il nostro paese perché le tasse sono alte e i migliori se ne stanno andando Ditemi voi che cosa ne pensate, ma secondo me abbassare le tasse drasticamente in Italia porterebbe un sacco di gente Quindi un sacco di soldi e un sacco di bene al nostro paese, si internazionalizzerebbe Proprio oggi dicevo, ma alla fine in Malta c'è un botto di italiani, parlano tutti italiano Poi ovvio qualcuno parla inglese Ho detto, eh, potrebbe essere, sarebbe l'Italia Se le tasse sono basse, ok, ci sono italiani, però c'è tanta gente stranina, allora tutti inserebbero a parlare Anche un po' inglese Sarebbe ricchezza Le persone in gamba tornerebbero perché veramente ragazzi, con tutto quello che volete Ditemi tutto quello che volete Ma l'italiano in gamba Se ne va Questo paese gli è ostile Gli è ostile Se ne sono andati tutti i migliori, sono rimasti Quelli che guardano la televisione e vanno a votare Perché le chiacchiere stanno a zero L'Italia la fanno gli imprenditori, chi crea lavoro E gli imprenditori se ne vanno Ho toccato tanti temi Spero che abbiate capito il mio messaggio Comunque commentate, fatemi sapere che cosa ne pensate Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo ad un prossimo video Da Malta è tutto, in piscina, 3 dicembre Ciao